Ciao a tutti, siamo sulla Casilina, sulla Casilina a Roma e sono le sette del mattino. Cosa ci fate sveglia alle sette del mattino? Cerchiamo di aprire la giornata alla meglio perché guarda, siamo barbone, io sono barbona, lei ha una casa, lei almeno ha avuto un lavoro, anche se adesso è senza lavoro, ma noi siamo alla ricerca di risolvere i nostri problemi e alle sette del mattino non siamo certo simpatiche, io sono poco simpatica alle sette del mattino. Cosa vuol dire barbona? Barbona? Che vive senza tetto. Cioè dormi per strada? Certo, sono per strada e se mi aiuta la gente ora sono... E c'è il tuo unico... È l'unico bagaglio. È l'unico bagaglio, quindi sette del mattino sveglia? Sette del mattino alle sette. A che ora ti sveglia? Alle quattro. Perché? Eh, perché, perché alle quattro comincia la gente a circolare, quelli che lavorano, quelli che sono normali, perché io non mi ritengo normale. Avendo senza una fissa dimora, essendo senza una fissa dimora io non mi ritengo più normale. Forse prima... Ma cos'è la normalità? Cos'è la normalità? Vivere agiatamente, vivere una vita più tranquilla, più normale, come tutti coloro che hanno una dimora, un lavoro, una pensione, non lo so. Ma tu lo vorresti avere? Lo vorrei avere tutto, ma non ho niente. E chi non vorrebbe avere una vita più agiata? Ma me lo dici? Scusa che ti do del tuo. No. Potresti essere mia figlia. Dunque me lo dici chi non vuole una vita più agiata, più tranquilla, più sistemata. Quindi tu volevi una vita più agiata. La strada è brutta. Io nel giro di un anno mi sono invecchiata di dieci anni. Ah sì? E mi vedo allo specchio. Non c'è bisogno che me lo dicano gli altri. Ma scusa fammi capire, te volevi i soldi, stare bene, avere una casa, hai fatto di tutto per averlo e non ci sei riuscita e sei finita in strada? No, non è così il discorso. Mi hanno tolto tutto. Ah. Senza giustificazione. Ora ho tutto da risolvere. Basta, non posso dire più nulla. Ho già parlato troppo. Sono stata una parlantina.